Nel 2018, a seguito di due anni di indagini e valutazioni tecniche, un decreto di archiviazione aveva chiuso l'inchiesta della procura di Teramo su 32 scuole, dagli asili agli istituti superiori, esaminate in dettaglio dopo il terremoto del 2016. Ora il sequestro del convitto e del liceo delfico ha indotto, come riportato dal quotidiano Il Centro, il procuratore Ettore Picardi a riaprire l'attenzione sulle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici, con particolare attenzione all'indice di vulnerabilità. L'indagine, attualmente contro i gnoti, trae origine da una denuncia presentata dagli ex docenti Serpentini e Befacchia, che hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza di altri edifici pubblici di Teramo. Secondo l'esposto, l'Istituto Delfico non sarebbe più insicuro di altri edifici. Diversi altri immobili pubblici presenterebbero, secondo i firmatari dell'esposto, indici di vulnerabilità inferiori o compatibili a quelli del liceo sequestrato. Nel frattempo, il sindaco di Teramo, Genguido D'Alberto, ha formalizzato alla Protezione Civile e alla Prefettura una richiesta per attivare lo stato di emergenza, vista la complessa situazione educativa, sociale ed economica conseguente al sequestro del convitto e del liceo delfico. L'Aggiunta Comunale, in collaborazione con la provincia, ha infatti richiesto interventi straordinari e risorse aggiuntive per far fronte all'emergenza bianca che sta colpendo Teramo, come definita dallo stesso D'Alberto. Si tratta di una situazione emergenziale di cui si devono fare carico tutti i livelli istituzionali, cominciare dal Ministero della Pubblica Istruzione, che al momento non ha speso una sola parola, non ha effettuato un solo intervento, non ha dato alcun tipo di risposta e garanzie per la gestione di questa fase emergenziale, sebbene parliamo ovviamente di una scuola e parliamo anche e soprattutto di un convitto, che è un convitto nazionale, che è diretta e emanazione del Ministero della Pubblica Istruzione, i cui esponenti sia nazionali che regionali hanno partecipato a tutte le iniziative relative al convitto, al delfico e al momento però non hanno assolutamente messo a disposizione nulla per gestire questa emergenza. Quindi pretendiamo che entrino in campo garantendo una copertura normativa insieme a tutti gli altri livelli istituzionali, governativi e regionali alla situazione emergenziale che stiamo vivendo e ovviamente anche e soprattutto una copertura economica perché questa emergenza ha un costo significativo, ha un costo importante e di certo non si può caricare sulle famiglie, noi come Comune e Provincia abbiamo evitato che ciò avvenisse, però non si può scaricare su Comune e Provincia da parte di altri livelli istituzionali che hanno il dovere di intervenire.